Buongiorno, oggi scopriremo come si può migliorare il sonno dei nostri bambini, specie nei primi anni di vita, ma anche in quella fase complicata della vita che è l'adolescenza. Intanto cerchiamo di capire per quale motivo è importante dormire per un bambino, perché banalmente per dirla e spiegarlo ad un bambino piccolo, un cervello riposato è molto più efficiente di un cervello assonnato, si migliorano i tempi di risposta degli stimoli, migliori la capacità di ricordare, sei più rapido nel fare i calcoli e addirittura già dormire solo 30 minuti di meno riduce l'attenzione e aumenta il livello di distrazione. Poi si può dire che chi non dorme dimentica quello che ha imparato, va beccia a scuola, diventa di cattivo umore, spesso non riesce a stare fermo, non capisce bene quello che gli viene chiesto, non ascolta gli altri, poi può addormentarsi magari anche per pochi secondi senza rendersene conto. Perché è importante questo? Perché numerosi studi, questa è una review, ci fanno vedere che la durata del sonno ha una relazione positiva con le prestazioni cognitive e con le prestazioni scolastiche in particolare che riguardano appunto bambini e ragazzi. E poi è stato visto che per esempio una durata del sonno più breve associata a dei problemi comportamentali sia internalizzanti che esternalizzanti, cioè ansia di pressione e magari iperattività o disturbo del comportamento di tipo appunto esternalizzante. Questa è una domanda che è stata fatta ad alcuni adolescenti. Vedete, dopo una notte in cui hai dormito poco male, qual è la cosa che senti di più? Che sei stanco? Che si addormenti sul banco? Che devi riposare il pomeriggio? Che ti addormenti mentre stai studiando? E poi una piccola percentuale, non sappiamo perché, dice che comunque è riposato anche se dorme poco o male. E quindi quanto deve dormire un bambino? Questa è una raccomandazione di quanto dovrebbe dormire il bambino. In realtà quello che succede nella vita reale è che questi bambini dormono molto di meno di quanto non debba essere raccomandato. Vedete, bambini magari di 3-5 anni devono dormire 13 ore, quelli di 9-12 anni, 6-12 anni, 9-12 ore, quelli di adolescenti 8-10 ore. Però appunto alcuni bambini hanno bisogno di un maggior sonno, altri di meno. Ma quello che è successo nel corso dell'ultimo secolo è questo, che i nostri bambini, anche noi adulti, abbiamo perso circa un'ora e un quarto di sonno rispetto ai primi del Novecento, cioè un 0,75 minuti all'anno, che in 100 anni fanno appunto 75 minuti. Ma non solo questo, perché se noi consideriamo i giorni di scuola e di bambini più grandi, questa media che è di 75 minuti poi viene a crescere fino a circa due ore di meno di sonno. Quindi è estremamente importante capire che questi problemi di sonno possono determinare una serie di conseguenze, una serie di conseguenze che sono appunto legate a tutte quelle funzioni che i bambini e gli adolescenti svolgono durante il giorno. Vedete, insomma, siamo intorno al 15-30% di bambini che soffrono di insonnia, questi bambini che hanno insonnia hanno problemi di attenzione per attività, comportamenti oppositivi, aggressivi, ma in linea generale, se noi dovessimo pensare a quello che è l'impatto della prima azione di sonno, come vedete, nei primi anni di vita in particolare, quello che viene ad essere influenzato è quella parte del nostro cervello che è in maggior crescita in quel momento, che è la corteccia prefrontale, che serve per le funzioni cognitive superiori, e quindi che è quella che ci permette poi di avere, insomma, un miglior apprendimento a controllare meglio il nostro comportamento. Nel momento in cui c'è l'insonnia che va ad impattare su questa corteccia che è in corso di sviluppo, su questa parte del cervello che è in corso di sviluppo, ovviamente l'impatto sulle funzioni corticali superiori, in particolare sulle funzioni di regolazione del comportamento, diventa estremamente rilevante. Quindi se dovessimo sintetizzare in qualche modo le conseguenze di un sonno disturbato, vediamo come disturbi del comportamento e funzione cognitiva, in particolare iperattività, disturbi di apprendimento, la disattenzione che facilita la propensione agli incidenti, l'obesità è strettamente correlata alla carenza di sonno, l'abuso di sostanze negli adolescenti, i disturbi psichiatrici, aumento il rischio di avere per esempio disturbo positivo provocatorio, disturbi depressivi, disturbi a tipo ADHD e disturbi d'anze in generale. Ma quello che è più rilevante e che non si considera tanto anche è la salute dei genitori, perché c'è tutta una serie di conseguenze sui genitori che non dormono. Vi faccio vedere al scopo esemplificativo questa signora che era in giornalista, imprenditrice e in carriera, che a un certo punto decide di fare un figlio insieme al suo compagno e quindi tutte le notti sono diventato un incubo per lei. Io che ero sempre stata libera, soddisfatta e in carriera, mi sono ritrovata con pappe e pannolini. Cominciano le notti, dormo un'ora e poi si sveglia, comincia a piangere, urla occhi chiusi, prosegue per tutta la notte. Ho momenti di grande stanchezza, di pentimento, di depressione, lo detesto perché ho perso ogni sicurezza sul lavoro. Ci sono momenti in cui ne ho me reggo in piedi. Io non sono un mostro, ma una donna distrutta che vede la sua vita in frantumi e ho momenti di rabbia che non riesco più a controllare. Questo è estremamente rilevante perché, come vediamo, questa depressione postpartum e in particolare l'impatto della deprivazione di sonno correlata ad un bambino che non dorme, può essere in realtà molto pericoloso per il bambino. In senso, vedete, queste sono alcune delle notizie giornalistiche e l'ultima, questo del 26 dicembre 2019, l'ho collato troppo violentemente perché non si addormentava. Probabilmente questo bambino era un bambino che aveva delle coliche gassose e la mamma, esaurita dalla stanchezza, perde il controllo di se stessa e scuote il piccolo per farlo smettere, fino a che, appunto, purtroppo non c'è stata una fine molto brutta. L'insonnia ovviamente facilita l'insorgenza e anche lo sviluppo o l'aggravamento di una depressione già preesistente. Quindi i genitori che cosa possono fare per evitare tutto questo? In realtà noi sappiamo, per esempio, che le madri dormono di meno durante la notte, possono, appunto, vedete come sparare al bambino, buttare il bambino dalla finestra, seguire i consigli delle nonne oppure leggersi tutta una serie di libri. O vedremo, ci sono anche altre alternative. Sappiamo che le madri dei bambini con coliche, per esempio, dormono di meno, hanno più depressione o stress, hanno pensieri e fantasie aggressive e il 26%, come abbiamo visto, poi ammette di aver pensato all'infanticidio. E quindi, se abbiamo un bambino che non dorme, ovviamente le conseguenze saranno molto rilevanti anche per i genitori. Ma che cosa non devono fare i genitori? Queste sono delle consigli che noi in genere diamo. Cioè, quello che non bisogna fare fondamentalmente è condizionare in qualche modo l'addormentamento. Cioè, farla addormentare in braccio, dargli la mano, i capelli o qualsiasi altra cosa per cui la madre deve essere a contatto con il bambino. Farla addormentare in posti diversi dal suo lettino e poi metterlo nel lettino, fargli fare il giro in macchina, dargli biberon, dargli tisane, camomille, eccetera, oppure farlo stancare di più pensando che poi si addormenti o dorma più facilmente. Questa invece è un'altra inchiesta che abbiamo fatto tantissimi anni fa, proprio per capire quali erano le cose che avevano detto i genitori e i pediatri per far addormentare il bambino. Vedete, il giro in auto solitamente lo fanno i papà. Poi lo stereo ad alto volume, respirare il gas del forno è una pratica che veniva utilizzata dalle balie e ci sono dei film del neuralismo che fanno proprio vedere queste balie che fanno respirare il gas al bambino quasi a fargli una anestesia generale oppure altre pratiche, far dormire con la lavatrice accesa sopra la lavatrice in modo che così avevano una shaken baby syndrome, cioè una sindrome da scuotimento. Oppure pulire il bambino, dargli il vino, il super alcolice, il caffè o addirittura l'eroina, ovviamente in soggetti tossicodipendenti. Però esistono poi adesso altri strumenti che cercano in qualche modo di aiutare questi genitori. Questo è un carl, una pulsazione luminosa con vibrazione che ricrea l'atmosfera che il bambino ha in macchina, nel viaggio in auto e lo stesso questa culla Four Moms che si muove praticamente al momento in cui il bambino inizia a piangere nel corso della notte e quindi fa una specie di cullamento automatico. Oppure esistono tutta una serie di app per i cosiddetti rumori bianchi che facilitano l'attormentamento. Ma un'altra categoria che viene ad essere adesso in questi ultimi mesi o anni ad essere molto richiesta è quella delle cosiddette consulenti del sonno. Sembrano tutte molto molto attive sul piano social e dicono che sono dei consulenti certificati. Però non si sa certificati bene da chi, da quali strutture, da che cosa poi è stato certificato, cioè che tipo di studi hanno fatto, eccetera. Questo purtroppo non si sa, però è una categoria che sta crescendo come negli Stati Uniti. Ci sono i cosiddetti sleep coach e qui troviamo le consulenti del sonno infantile o consulente o consulenti che probabilmente hanno il loro successo perché sono molto molto richieste. Però insomma vediamo se queste poi hanno un successo o meno. Cosa facciamo per prevenire? Qui sono dei consigli generali che ci permettono in qualche modo di capire se il genitore sta facendo qualcosa di sbagliato. Per esempio mettere il bambino a letto assonnato ma sveglio, non già addormentato, imposta un orario regolare di addormentamento, di sveglio, di pasti, di attività fisica, evita l'esposizione alla luce diretta nelle ore serali, aumentare l'esposizione alla luce durante il giorno, questo è estremamente importante, rilevante, specie in epoca precoce. Fare i pisolini appropriati all'età, fare il pisolino strategico, spesso si parla di power nap, cioè un pisolino che viene fatto nelle ore serali prima della cena. E poi è da dire che dopo i sei mesi non c'è più necessità del pasto notturno. e poi queste routine regolari, in qualche modo costanti, che in qualche modo danno al bambino un segnale che deve addormentarsi. Poi limitare l'attività che promuove la veglia, non usare il letto per punizione, evitare di farlo dormire altrove. Poi ovviamente tenere i device, i media device e la tv fuori della camera da letto, non stimolare particolarmente i bambini nelle ore serali prima di addormentarsi, evitare i passi pesanti, limitare o eliminare la caffeina, la teofaglina ed altre sostanze che possono essere attivanti e fare delle attività calmanti come leggere per esempio nella camera da letto del bambino. Un'altra cosa estremamente importante è fare programmare dell'attività fisica che permette in qualche modo di regolarizzare il sonno del bambino. Il 75% dei problemi di sonno si risolvono con il miglioramento delle abitudini del sonno, diciamo così in linea generale. Quindi nel momento in cui ci portano il bambino che non dorme, noi dottori abbiamo, o psicologi, abbiamo delle tecniche di tipo comportamentale che permettono di migliorare il sonno del bambino. Sono l'estinzione, l'estinzione gradale, l'ordinio, rinforzo positivo, eccetera, che non parleremo in dettaglio, ma questa terapia cognitivo-comportamentale in pratica mi fa modificare le conoscenze genitoriali del sonno sul sonno dei figli, dei genitori, e permette di sviluppare la capacità di autoconsolazione del bambino. Quindi modifica un po' i comportamenti anche sia all'addormentamento che durante i risvegli notturni. Ma quello che è importante è che molto spesso i genitori hanno molta resistenza ad applicare queste regole perché in qualche modo possono, almeno all'inizio, dare un maggiore stress al bambino e aumentare il pianto del bambino. Quindi molto spesso vengono abbandonate prima di farle. Ora, l'altro periodo estremamente rilevante per quanto riguarda il sonno del bambino dell'età evolutiva è l'adolescenza. In adolescenza c'è un ritardo nell'orario di addormentamento ma che è in qualche modo parafisiologico. Se noi vediamo questo grafico qua ci fa vedere che il picco della melatonina, questa linea celeste, l'unico periodo della vita in cui è ritardato di circa due ore è proprio l'adolescenza. E quindi per un motivo strettamente fisiologico l'adolescente tende ad andare a dormire più tardi. Dall'altra parte c'è l'anticipo dell'entrata a scuola quindi questo giustifica un po' la riduzione del sonno che c'è, della durata del sonno che c'è in questi bambini. Poi c'è anche un altro processo quindi gli adolescenti diventano più attivi la sera poi cambia la struttura cerebrale e poi c'è l'arrivo degli smartphone che hanno in qualche modo con tutte le attività di social networking che hanno cambiato un po' diciamo le abitudini non solo degli adolescenti ma di tutti noi più o meno. Quindi che cosa fa l'adolescente? Va a letto più tardi va a dormire tardi in particolare nei weekend e quindi ha difficoltà di iniziare il sonno quindi durante la settimana ha un sonno ridotto e quindi tende a dormire pomeriggio e questo dormire pomeriggio poi ritarda di nuovo l'addormentamento quindi si crea questo circolo vizioso e molto spesso alcuni adolescenti non riescono più ad andare a scuola proprio perché non riescono a svegliarsi la mattina e non riescono a tormentarsi nel corso della notte questo diciamo cambiamento drammatico è successo, è iniziato nel 2012 quando l'arrivo degli smartphone ha cambiato la vita degli adolescenti e delle interazioni sociali degli adolescenti e c'è da dire che questo cambiamento si verifica tra gli adolescenti poveri e ricchi in ogni origine etnica nelle città, nei suburghi, nelle piccole città qui sappiamo che per esempio già i migranti che vengono da da paesi molto disagiati arrivano già con uno smartphone in mano e questo l'utilizzo degli smartphone in qualche modo determina un cambiamento notevole della struttura del sonno perché tutti ci sono moltissimi studi ma in sintesi tutti gli studi ci dicono che gli adolescenti che fanno uso dei dispositivi nelle ore serali addirittura l'86% dormono con il telefono in camera da letto sotto il cuscino in mano quindi dormono di meno vanno a letto più tardi ci mettono in più per addormentarsi sono più stanchi durante il giorno più lo smartphone è interattivo più questi problemi saranno rilevanti che cosa comportano? comportano il fatto che si addormentano a scuola circa il 25% degli adolescenti si addormenta a scuola e quindi poi diventa più stanco durante il giorno gli studenti che dormono questo è stato uno studio cioè gli studenti A quelli che prendono i voti più alti dormono circa mezz'ora di più rispetto a quelli che poi vanno male o rischiano la bocciatura quindi hanno poi uso di sostanze caffeine per esempio sostanze per tenersi svegli durante il giorno per esempio e quindi aumentano i comportamenti a rischio aumentano la depressione le reazioni suscitarie e poi problemi psicologici in generale questo è estremamente rilevante perché nel momento in cui gli adolescenti hanno bisogno di maggior sonno devono anticipare l'ingresso a scuola ci sono degli studi e c'è un movimento proprio che ci sta cercando di imporre il fatto che gli studenti delle scuole superiori debbano spostare l'orario di addormentamento di circa mezz'ora o addirittura un'ora di ingresso a scuola e questo porterebbe tutta una serie di miglioramenti riduzione dell'assenza eccetera però come abbiamo visto come possiamo prevenire i problemi del sonno del bambino piccolo ma come possiamo aiutare poi gli adolescenti a migliorare il loro sonno degli studi hanno dimostrato che l'attività fisica è estremamente rilevante per regolarizzare il sonno degli adolescenti quindi fare attività fisica non nelle ore tardoserali o addirittura dopo la cena quindi evitare quello ma nelle ore pomeridiane un'attività fisica regolare in qualche modo migliora la ritmicità circadiana di questi soggetti anche perché se noi facciamo degli incontri formativi sull'importanza del sonno negli adolescenti noi possiamo avere effetti positivi sulla conoscenza ma non sulle abitudini del sonno nel senso che gli adolescenti continuano a fare come gli pare rispetto al sonno quindi non sono così efficaci come ci saremmo aspettati rispetto alla comprensione dell'importanza del sonno per questi bambini quindi le raccomandazioni sono mantieni un programma di sonno regolare quando ne senti il bisogno fai un pisolino però nel primo pomeriggio e prima di addormentarsi mi spegli tutti i telefoni, i cellulari, i televisioni eccetera non bere caffè coca cola eccetera usa il letto solo per tornire fai sport anche nel preseriale soprattutto in gruppo perché l'attività fisica appunto stabilizza il sistema circadiano e fai dei pasti leggeri prima di andare a dormire ora questo è tutto quello che possiamo fare non utilizzando i farmaci ma i farmaci in qualche caso sono estremamente importanti e rilevanti stiamo parlando però come vedete qui non di farmaci così rilevanti perché sono i farmaci che chiunque può comprare anche senza ricetta medica ovviamente il medico deve stabilire quando vanno usati questi tipi di farmaci come usarli per quanto tempo non ci addentriamo qui in questo ambito ma solo per dire che già col ferro la vitamina D o il triptofano o la melatonina o gli antistamici possiamo già migliorare il sonno di questi di questi bambini poi ci sono altri farmaci ovviamente più importanti che vanno da le benzodatepine agli antipsicotici eccetera la luce intensa per regolarizzare il sonno degli adolescenti ma non ci addentriamo in questo ambito solo per finire vi voglio dire che noi abbiamo tanta paura a somministrare i farmaci ai nostri bambini ma quando andiamo a vedere quello che succedeva nelle epoche più antiche per esempio qui già nei primi del novecento si utilizzava nel mondo contadino il papavero da oppio il papavero da oppio si facevano dei decotti di oppio che in qualche modo vedete servivano a calmare le coliche dei bambini le coliche si hanno nel primo terzo mese di vita e quindi le carri nonne del meridione in buona sostanza somministravano ai loro nipoti dei rimedi a base di alcaloidi e questo diciamo questo decotto di oppio si veniva chiamato papagna e da qui poi ci sono dei modi di dire che proprio riguardano questo questo tipo di diciamo di rimedio possiamo dire ma non solo questo perché se noi andiamo ancora più indietro nel tempo il laudano che si utilizzava come vedete qui sleepless baby dius laudanum quindi questo anche molto molto prima il laudano era un preparato fatto con l'oppio con vino e alcol e altre sostanze quindi era una formula proposta da Sidenham già quello della Coria già nel nel 1600 e poi si preparava in qualche modo facendo con con delle tecniche eccetera ma come vedete si davano già se leggete riuscite a leggere qui a cinque giorni a due settimane e a cinque anni si davano le gocce di laudano e anche qui vedete quindi pur essendo considerato addirittura un veleno veniva dato anche ai bambini molto piccoli e anche nell'antichità siccome l'insonnia veniva considerata una malattia l'estratto di papavero veniva usato tantissimo addirittura da oltre tre millenni per pianto eccessivo sospetto dolore diarrea raccomandato a Galeno da Vicenna eccetera e nel corso dei secoli gli infermieri spesso usavano gli oppiacei per far dormire i bambini e anche sappiamo anche ovviamente per alleviare per alleviare il dolore quindi non ci preoccupiamo tanto quando somministriamo dei farmaci ai nostri bambini perché ovviamente già nei tempi antichi si utilizzavano dei farmaci che oggi come oggi sarebbero quasi come medico ci troviamo a somministrare dell'occhio a un bambino verremmo come minimo messi sotto processo vi ringrazio dell'attenzione spero che sia stata una presentazione esaustiva esaustiva per voi grazie grazie